Bella raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video che non sarà un video come al solito come ben vedete ragazzi c'è un bordello sulla mia scrivania, c'è sta robaccia e manca la serie S ciò vuol dire che chissà che cazzo sto costruendo, chissà cosa mi è venuto in mente volete vederlo? iscrivetevi al canale, commentate e seguite Savix, attimate la campanellina e sbadabam iscrivetevi al canale!